eccoci di nuovo insieme oggi è mercoledì 12 giugno e cominciamo dalla riete non cercate soluzioni facili se volete risolvere un problema di lavoro come volete voi la strada è solo quella per quanto lunga e difficoltosa toro qualche discussione sul lavoro potrebbe mandarvi la giornata di traverso date alle parole il loro giusto peso e andate dritti per la vostra strada gemelli tante piccole cose che non vanno vi fanno saltare la mosca al naso sembra che il bel clima di relax dei giorni scorsi sia improvvisamente svanito cancro una bella notizia di lavoro rischiara la vostra giornata e vi dà l'energia necessaria per rimettervi in gioco non abbiate paura di dire quello che pensate ad un collaboratore leone siete insolitamente taciturni come se aveste quasi paura a parlare e mostrare al mondo esterno quali sono i vostri reali sentimenti vergine mettete in preventivo qualche piccola noia di lavoro che potrebbe portare con sé una spiacevole discussione fate buon viso a cattivo gioco e vedrete che tutto si risolverà nel migliore dei modi bilancia poche novità in questa giornata in cui tutto vi scivola addosso con estrema facilità riuscirete a non arrabbiarvi per nulla e questo alla fine vi procurerà più di un vantaggio scorpione certe malinconie non accennano a passare ma la colpa è anche vostra che non fate nulla per lasciarvi il passato alle spalle una volta per tutte sagittario le idee che avete per la mente potrebbero funzionare molto bene a patto che sappiate svilupparle in modo appropriato ed obiettivo infatti non tutti la pensano come voi soprattutto sul lavoro capricorno non mettete troppa carne al fuoco infatti la vostra tendenza oggi potrebbe essere quella di voler strafare col risultato poi di non portare avanti nulla nei dovuti modi acquario un po più disponibili del solito ricominciate il vostro tran tran lavorativo con rinnovata energia sarete in grado di risolvere in tempo reale qualunque problema si pare di fronte a voi pesci le difficoltà non sono ancora finite bisogna rimboccarsi le maniche combattere le ultime battaglie prima di poter godere il meritato riposo e anche per oggi abbiamo concluso con l'appuntamento dedicato all'oroscopo vi aspetto domani alla stessa ora